Il mondo politico salentino e il lutto per la morte dell'onorevole Gaetano Gorgoni, avvocato penalista molto apprezzato, politico dispersore e amministratore di Cavallino, originario di un'antica famiglia aristocratica galatinese più volte parlamentare con incarichi di governo. Si è spento nella notte a causa di una crisi respiratoria con accanto la consorte Annalita Cantoro, dalla quale non si è separato sino all'ultimo istante. Nato a Galatina il 26 agosto del 1933, Gorgoni è stato avvocato penalista. Il suo debutto in politica fu nel 1960 con l'elezione a consigliere provinciale, carica che ricoprì sino al 1985, ottenendo anche l'incarico di assessore alla cultura, beni culturali, caccia, pesca e turismo. Esponente di primo piano del Partito Repubblicano Italiano, amico personale dei leader storici Randolfo Pacciardi, Ugo Lamalfa e Giovanni Spadolini e per ultimo Giorgio Lamalfa, venne eletto parlamentare nel 1983 alla Camera dei Deputati, carica che mantenne nella nona, nella decima e nell'undicesima legislatura sino al 1994. Fu nominato sottosegretario di Stato ai lavori pubblici e alla difesa con i due governi di Bettino Crazzi nel 1983 e nel 1986. Dal 1989 al 1992 ha fatto parte della Giunta per l'autorizzazione a procedere della Camera, della quale è stato segretario, entrando poi nell'ufficio di presidenza della stessa Giunta dal 1993 al 94. Dal 1963 è stato consigliere comunale a Bernole, Lizzanello e Cavallino, poi al Comune di Lecce dal 1985 al 92. Negli ultimi anni la sua azione amministrativa si è concentrata sul suo paese di origine, Cavallino, di cui è stato sindaco dal 1992 al 2006 e vice sindaco dal 2011. Formatosi nella vecchia scuola dei partiti che furono spazzati via da Tangentopoli, Gorgoni è stato un mazziniano, sempre fedele ai concetti di patria e umanità e sempre, coerentemente, nella destra repubblicana. Le battaglie in università con Pinuccio Tattarella, i giorni in cui si sfiorava la guerra civile, la fermazione pugliese del partito repubblicano, gli incarichi al vertice di governo sono la testimonianza della sua visione lucida degli eventi e di una vita politica lungimirante e coerente, vissuta sempre da protagonista e con grande passione e impegno civico.